Allora, pronosti l'ufficiale di Camillo Ragnetti, direttamente all'occhio per feste, vai Camillo! Non esco l'ufficiale del presidente del Pino di Matteo Ciccicco, primo Pino di Matteo Ciccicco, secondo Cepagatti, terzo Sporti con la Ciccicco, finale playoff? Cepagatti, Sporti Cortona 6 a 2, Poccardi Mondazzi, Doppier, Poccardi Mondazzi, Reti Lucianini e Colasante per l'Ortona, Anderson e Di Battista 6 a 2. E Papponetti, e Papponetti! Papponetti! Papponetti, niente! Aspetta, aspetta! Allora, riepiloghiamo Pino di Matteo direttamente in serie B, Cepagatti United in serie B passando per i playoff, stringendo l'Ortona! e Riepilio prendertelo pelo Pellis Drewale Tre giritte, per lì. Tres giritte! E Riepilio, Con l'Ortona pure il Cuoco, teni la linea solo con la Ciccola, Almeni,�et-almeni non c'è il... gol, mi c'è il... Oooooooohちゃん quiqua... Te disse, Listen K ven明is, Riepilio, per la Settimana Prossima, big match! Pino di Matteo, Riepilio... Pino di Matteo... ...Voccardi Cortona 9 a 4. Well, percentage of 5,5... La reddita!!! The reddita, The reddita! poker di lanza, doppietta di massimini, doppietta di cianci, rete di bettoli, 9 a 4, per l'ortona, per l'ortona, marconi, 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 paponetti ehi, questo è un mago, ragazzi, questa è una cosa, è un mago, 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 guardate queste parole, sono così, ricordate queste parole che fa a Camillo, è un mago, ora intanto faccio pure due tetti vai al giorno, al giorno, vai aspetta, non facesse cose così armore, armore, questa è la salvazione